amici del canale youtube Gianluca Rossi TV e del sito Gianluca Rossi.it dai che ci stiamo avvicinando finalmente alla ripresa di campionato non vedo l'ora di essere a San Siro per Inter Torino domenica alle 15 oggi però vi parlo di mercato e sì perché qualcosina proprio qualcosina c'è ovviamente sono sempre angosciato all'idea che ci possano essere notizie naturalmente sui prossimi tamponi perché tutti bene o male sono rientrati adesso sono a disposizione di Antonio Conte per preparare Inter Torino speriamo insomma di non avere novità nel momento in cui vi parlo di novità negative non ne ho abbiamo soltanto Brozovic e Kolarov che come sapete sono positivi al Covid-19 ma tanto non me ne frega niente di questi due lo so vabbè a me sì comunque parliamo di mercato allora parliamo di mercato poi una breve rassegna in chiusura dei nostri nazionali allora il nome il nome che sta girando in questi giorni in queste ore è un nome che non entusiasverà probabilmente ma come sapete a gennaio non è che si possano fare grandissime operazioni quello che pare è evidente che comunque serva una punta di maggior spessore di maggior spessore internazionale e maggior esperienza rispetto a Pinamonti e la punta è stata individuata in uno che non gioca da mesi 26enne polacco Arkadius Milik poverino Milik la storia è incredibile emblematica dove andare Pola Juve un po' alla Roma alla fine rimasto lì al Napoli non gioca da mesi praticamente fuori rosa e quindi capisco che il nome non vi esalti tra l'altro De Laurenti schiedeva 25 milioni magari adesso è capace addirittura di chiederne 20 ma l'Inter non glieli dà quindi se questa cosa va in porto a gennaio va in porto per una cifra largamente inferiore sulla bilancia sul piatto della bilancia per eventuali scambi l'Inter potrebbe mettere teoricamente Nainggolan che come sapete è sempre uno che quando c'è un'operazione di mercato qualsiasi si pensa che possa essere in qualche modo tra virgolette commercializzato in realtà Nainggolan ormai lo sappiamo o si gioca l'Inter per i mesi che restano oppure se ne tornerà a Cagliari quindi io non vedo molto la possibilità di mettere Nainggolan in questa operazione ci sarebbe Vecino Vecino che però è infortunato Vecino del quale insomma non si hanno notizie particolarmente confortanti nel senso che non gioca da mesi è chiaro che riprenderà prima o poi ad allenarsi ma insomma Vecino sappiamo sapevamo che era un giocatore che piaceva Gattuso quindi si potrebbe pensare di mandare Vecino a Napoli e di portare qui Milik però ripeto per quanto riguarda la punta voi sapete che le preferenze di Conte sono sempre le stesse cioè Olivier Giroud che io non capisco perché continuate a non amarlo so ok è un giocatore che avrà anche 34 anni ma io l'ho appena visto fare due gol uno più bello dell'altro continua a giocare nella Francia che è la nazionale campione del mondo Olivier Giroud c'era anche 34 anni ma secondo me ha più feeling col gol devo dire sicuramente di Pinamonti e mi pare anche di Sanchez insomma quindi come completamente del reparto d'attacco a gennaio certo un nome vecchio sapete che Conte ottiene sei mesi dopo quello che chiede però insomma Giroud francamente a me non dispiacerebbe come completamento in attacco è un giocatore che può fare benissimo il vice Lukaku un giocatore insomma che può fare assolutamente tutto e ripeto gioca nella nazionale campione del mondo gioca ancora titolare insomma non mi sembra che sia un giocatore sul quale essere così perplessi vabbè l'altra idea è la solita di Gervinio però insomma diciamo che per quanto riguarda il mercato di gennaio si vorrebbe completare completare l'Inter con un attaccante un pochino più esperto di Pinamonti per andare al vero completamento c'è sempre il discorso del centrocampista c'era il sogno Kanté c'è Ericsson che come vedete si trova sempre male io francamente come ho pazienza per gli allenatori dico sempre che bisogna tenerli almeno tre anni ma tanto non ce la facciamo mai anche per Ericsson vorrei che proseguisse la sua storia nell'Inter però è chiaro che Conte lo vede sempre meno ormai il ritorno al 3-5-2 puro mi sembra abbastanza evidente anche avendo visto l'ultima partita con l'Atalanta e quindi forse dobbiamo cominciare a pensare a un'idea di Ericsson lontano dall'Inter a gennaio però anche qui io l'unica soluzione che come altri colleghi vedo è quello di uno scambio col Paris Saint Germain con Leandro Daniel Paredes che ha due anni meno di Ericsson centrocampista argentino tra l'altro l'abbiamo appena ammirato contro il Perù se non ricordo male è stato lui a fare l'assist per Lautaro giocatore che era già stato giovanissimo alla Roma un giocatore che poi era andato allo Zenit che nel gennaio del 2019 il Paris Saint Germain ha pagato 40 milioni guadagna 5 milioni e mezzo meno di Ericsson quindi l'incastro se davvero Ericsson accettasse la destinazione Paris Saint Germain si potrebbe creare già a gennaio con Paredes che viene qui beneficia comunque del decreto che riguarda in pratica i talenti che rientrano perché bisogna avere trascorso almeno due anni lontano dall'Italia per avere un abbattimento totale delle imposte sullo stipendio se non ricordo male Paredes è fuori nel gennaio 2017 se non ricordo male andrò via da Roma quindi ci siamo sono passati tre anni Paredes anche dal punto di vista economico insomma non non comporterebbe a livello di ingaggio anche a livello di cartellino insomma particolari esborsi per l'Inter insomma diciamo che tutto sommato Paredes Ericsson è un'operazione che teoricamente presenterebbe anche dei vantaggi presso l'agenzia delle entrate proprio per un'assenza fiscale che Paredes sa di almeno due anni dal nostro paese poi voi magari non lo fareste io come sempre l'ho appena detto darei tempo tanto agli allenatori quanto ai giocatori questo è il secondo anno ma è stato un anno tribolato per Ericsson l'anno scorso è arrivato a gennaio insomma non lo so io avrei ancora fiducia di provarci però mi sembra che da più parti non ci sia questa fiducia quindi un attaccante al momento individuato in Milik ma io continuo a fare il tifo per Giroud ve lo dico sinceramente ma sinceramente non pongo condizioni che sia un attaccante magari di più esperienza del buon Pinamonti con tutto rispetto e poi un centrocampista che in qualche modo possa essere più utile ovviamente di Ericsson questo fermo restando che adesso noi dobbiamo riprendere una stagione con le partite con il Torino e con Real Madrid che sia un po' diversa i nazionali sono tornati devo dire che poi alla fine i nostri nazionali hanno segnato complessivamente dieci gol gol importanti vi dà l'estato straordinario ha segnato tre gol Lautaro ha segnato insomma tutti più o meno hanno giocato sottolineiamo Bastoni che praticamente da debuttante perché saliva dall'under 21 si è sparato tutte e tre le partite 270 minuti sia l'amichevole sia le due ufficiali ed è una certezza Barella ha fatto le due ufficiali qualcosina hanno fatto anche Gagliardini in amichevole poi d'Ambrosio insomma devo dire che i nostri nazionali si sono comunque fatti onore per non parlare di Lukaku due gol in Belgio Danimarca un giocatore straordinario credo che abbia totalizzato me l'ero segnato 57 gol 57 gol in 89 partite qualcosa di straordinario per Lukaku poi per quanto riguarda gli altri Perisic si è fatto anche lui i suoi 210 minuti insomma devo dire che bene o male tutti si sono fatti onore e soprattutto non si sono fatti male diciamo che nel momento in cui parlo se non ho altre novità negative praticamente abbiamo perso soltanto Kolarov e Brozovic per positività al tampone e per il resto sono tutti arruolati anche Hakimi che ha fatto quasi tutte e due le partite che ha preso botte di qui e botte di là ha segnato un gol ma è comunque rientrato e Hakimi ovviamente da Hakimi mi aspetto moltissimo in questa ripresa di stagione. Un saluto cari amici da Gianluca Rossi ci risentiamo prestissimo nei prossimi video editoriali. Ciao a tutti!